Sono state ore drammatiche e di preghiera per Brian Carta, 17 anni, di Fagnano Lona. Le due comunità del suo paese, quelle di Solbiate, hanno sperato fino alla fine che sopravvivesse all'incidente, ma così non è stato ed è morto al pronto soccorso di Bustarsizio nella notte di oggi, lunedì 26 agosto. Le sue condizioni sono perse subito gravissime, dopo lo schianto avvenuto verso l'una di notte. Era in sella la sua moto quando ha perso il controllo, finendo contro un'impalcatura di un cantiere. Con lui in sella c'era una ragazza, un'amica di 16 anni, residente a Solbiate. Arrivati a bordo delle automediche in via Cesare Battisti, terattro dell'incidente, i medici soccorritori hanno tentato ogni manovra salvavita per animare il ragazzo che è stato portato con urgenza al pronto soccorso di Bustarsizio. Qui anche i medici e i rianimatori hanno cercato in ogni modo di salvare il giovane finché si sono dovuti arrendere e constatarne il decesso. Un incidente violentissimo, il giovane ha fatto tutto da solo. Sono molto seri anche le condizioni della sedicenne coinvolta nello schianto e era seduta come passeggera sulla moto. Questa mattina la giovane è stata operata all'ospedale di Circolo di Varese. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma la prognosi è riservata e la sua convalescenza sarà molto lunga. Grazie.